quasi scontata per certi versi. Ma la decisione dei due presidenti della Camera e del Senato porta alla Camera dei Deputati una grandissima responsabilità. L'Italia ha bisogno sicuramente di una nuova legge elettorale e ne ha bisogno in tempi brevi. Il Partito Democratico è pronto. Già nel primo giorno di legislatura abbiamo presentato le nostre proposte e non faremo mancare il nostro contributo perché all'Italia arrivi una legge elettorale in cui i cittadini possono scegliere direttamente la persona che mandano in Parlamento e in cui la sera stessa delle elezioni si sappia chi ha vinto e chi ha vinto deve poter governare per cinque anni.